Io mi occupo di psicologia dello sviluppo, in particolare dello sviluppo della memoria episodica, che è quella capacità di ricordare eventi della nostra esperienza ricordando negli aspetti spazio-temporali. Quindi si tratta del ricordo di eventi databili temporalmente, collocabili nello spazio. Qui ho portato alcuni esempi di eventi nella vita di un bambino, come partecipare a una festa di carnevale, una gita in spiaggia, o anche eventi banali, come un taglio di capelli. E la memoria episodica permette al bambino di ricordare questi eventi, di metterli in ordine, nel tempo, di sapere chi era presente, di sapere dove questi eventi sono avvenuti. Si tratta di una rievocazione consapevole, ricca, che quindi richiede una capacità introspettiva. Il bambino può riflettere, questo almeno dobbiamo cercare di dimostrare, può riflettere sul contenuto e la qualità delle proprie memorie. Dunque, la rilevanza di questa capacità di memoria è evidente, cioè nella vita quotidiana noi dobbiamo ricordarci dove abbiamo messo le chiavi, la cartella, se abbiamo preso la medicina. Quindi ci dobbiamo ricordare tante informazioni dove colleghiamo elementi su episodi, a elementi di spazio e tempo. È fondamentale. Ma io vorrei dire che anche nell'ambito dell'apprendimento scolastico questa capacità ha un'importanza vitale. Vorrei cercare di provare almeno di enfatizzare alcuni elementi di contatto. Tradizionalmente la memoria episodica non è stata tanto vista nel contesto scolastico, perché dopo tutto uno potrebbe pensare che è più importante ricordarsi nozioni o fatti che ricordarsi dove queste nozioni o fatti sono stati appresi inizialmente. Cioè è più importante sapere che so che la capitale della Francia è Parigi o che la moltiplicazione si fa così, piuttosto che ricordarsi che l'ho imparato quel giorno durante quella lezione, quando la maestra me l'ha detto o quando qualcuno me l'ha spiegato. Però cercherò di mettere in evidenza che invece i processi che sostengono la memoria episodica sono importanti anche nell'ambito dell'apprendimento. Allora chiediamoci un attimo come si sviluppa la memoria episodica. Qui ho un grafico di una ricerca che non ho fatto io, ma che dimostra un rapido miglioramento nel corso dell'infanzia. Qui abbiamo in ascissa l'età, in anni, in ordinata il numero di ricordi e quello che vedete è che tra i 6 e i 10 anni, cioè l'età della primaria, che è l'età di cui mi occupo principalmente, ecco vediamo uno sviluppo rapido, capacità che aumentano molto velocemente. Ci dobbiamo quindi chiedere quali sono i processi che permettono questo sviluppo, che ne sono responsabili. Allora, dunque questo è un mio schemino per illustrare che cos'è la memoria episodica. Abbiamo detto, ci ricordiamo un episodio con le dimensioni del cosa, il dove, il quando di un'esperienza. Per poter ricordare questi eventi, di che cosa abbiamo bisogno? I modelli di memoria episodica ci dicono che ci sono almeno due classi di meccanismi fondamentali, di processi di cui assolutamente dobbiamo tenere conto se vogliamo capire come il bambino sviluppa la capacità di ricordare. Primo, processi associativi. Sono i processi che consentono di mettere insieme, di integrare i vari elementi di un'esperienza. Quindi si tratta di processi che ci permettono di formare una rappresentazione integrata, ricca, che possiede una sorta di codice spazio-temporale, la cui attivazione ci permette di ricordare quando abbiamo bisogno di ritrovare quella memoria. I processi associativi sono sostenuti da una struttura fondamentale per la memoria, una struttura che si chiama ipocampo e che si trova lì, blu. E questa struttura, come dicevo, senza la quale non possiamo ricordare episodicamente perché l'episodio, la memoria, la rappresentazione amnestica che racchiude queste informazioni non può essere formata. Su questi meccanismi operano i meccanismi che qui chiamo processi controllati, sono le strategie, la metacognizione, il riflettere sul contenuto della memoria. Questi sono processi che presiedono all'operazione di quelli associativi, cioè mobilitano per esempio l'attenzione, prestiamo attenzione a qualcosa per potercelo poi ricordare, mettiamo in atto strategie di codifica per poter mettere in atto questi processi associativi, oppure mettiamo in atto strategie di recupero per poter ritrovare le memorie di cui abbiamo bisogno. Allora, come contribuiscono, come si sviluppano queste due classi di processi? Questa è la domanda che noi ricercatori dobbiamo affrontare e che vorrei poi cercare di mettere, diciamo così, in relazione a come l'ambito scolastico può rispondere a queste traiettorie, a questi sviluppi. Dunque, c'è un modello di sviluppo tradizionale che più o meno è così. Cosa dice questo modello tradizionale? Che, se vedete qui, ho messo gli anni 0, 3, 6, quindi l'ingresso nella scuola dell'infanzia, in primaria. Allora, secondo questi modelli tradizionali, questi processi associativi si sviluppano fortemente nei primissimi anni di vita e poi sono essenzialmente stabili. Quindi, da questo punto di vista, il miglioramento che vediamo nelle capacità di memoria durante l'età della primaria sarebbe il prodotto solo di questi processi controllati, metacognizioni e strategie. Cosa vuol dire? Vorrebbe dire che la capacità di formare queste rappresentazioni mnestiche ricche sarebbe già completamente matura all'ingresso dell'età della primaria. Quello che dovremmo cercare di sostenere è invece la capacità di ragionare e di dirigere strategie sulla memoria. Io non sono d'accordo su questo processo, perché oltre a questo modello, un po' perché implica quello che ho appena detto, ma anche implica che nella primissima infanzia non ci sia un posto veramente per elementi di controllo e cercherò di almeno accennare a qualche evidenza del contrario. In questo framework di riferimento questi processi lavorano più o meno in parallelo e si informano durante tutto il corso dello sviluppo del bambino. Quindi oggi vorrei parlare di due argomenti, toccare almeno brevemente sia lo sviluppo dei processi associativi e quello di quelli metacognitivi, che sono una parte di quelli controllati, ma quello che personalmente mi interessa di più è quello di cui mi occupo e quindi vorrei parlarvi e avere l'opportunità di condividere alcuni dei risultati delle nostre ricerche recenti. Come studiare i processi associativi? Ci interessa sapere, questa è una delle domande che ci potremmo porre, come questa struttura di cui vi dicevo prima l'ipocampo contribuisce al comportamento. In un contesto sperimentale e poi soprattutto in un contesto delle neuroimmagini dove il bambino deve stare assolutamente immobile e ridurre il movimento, noi semplifichiamo i compiti di memoria episodica per riuscire a misurare gli elementi proprio cruciali di questa capacità, però appunto semplificando. Quindi invece di chiedere, di fare domande su eventi autobiografici o eventi della propria vita personale, formiamo nuove memorie e qui chiediamo al bambino di processare, di imparare, di cercare di ricordare parole o immagini che vengono presentate una alla volta e chiediamo ai bambini di associare elementi dell'esperienza, elementi appunto minimi se volete, ma elementi dell'esperienza che avvengono arbitrariamente, un po' come avviene arbitrariamente la vita, diciamo, quando tante cose colpiscono i nostri sensi e in qualche modo le dobbiamo ritenere e ricordarceli. Quindi potremmo chiedere ai bambini di associare un colore a un'immagine, ho visto il leone in giallo, o una posizione sullo schermo, il leone si è presentato in alta destra, oppure un quando dove potremmo chiedere ai bambini di ricordare se è venuto prima il leone o, come ho messo, la mela. Quindi ancora, si tratta degli elementi che definiscono la memoria episodica però in un contesto semplificato. Con questi metodi possiamo poi chiederci se l'ippocampo, che è questa struttura che appunto ci aiuta a creare una rappresentazione ricca del nostro passato, ci possiamo chiedere se l'ippocampo risponderà in maniera diversa a una situazione in cui una memoria episodica è ricordata per davvero con tutti i dettagli di cui vi ho parlato, che ho introdotto, oppure se la memoria è, diciamo così, se è meno attivo quando la memoria è meno ricca o completamente dimenticata. Allora qui, questa è un'immagine coronale e la piccola macchia blu è la parte dell'ippocampo che era attiva in questo compito e quindi ci chiediamo quale sia il livello di attività dell'ippocampo che in qualche modo indirettamente ci dice qual è il suo contributo al comportamento. Allora, negli adulti molte ricerche, questa è una delle cose importanti, penso che quando ci si avvicina alle neuroimmagini per studiare sviluppo, è proprio bene cominciare da un punto in cui nell'età adulta abbiamo un po' capito come funziona il risultato. Negli adulti molte ricerche mostrano che l'attività ipocampale durante un compito di memoria funziona più o meno così. Quando l'evento è ricordato con dettagli c'è maggiore attività di quando l'evento è ricordato senza dettagli o è dimenticato. Quindi questo è il contributo o il tipico risultato di maggiore attività di questa struttura quando il ricordo è chiaro e con dettagli. Nel bambino di otto anni, almeno in alcuni studi abbiamo trovato risultati simili in altri studi, succede invece questo, cioè che l'ippocampo è coinvolto naturalmente, l'ippocampo è sempre coinvolto nelle memorie, non stiamo chiedendoci se contribuisce alla memoria, ma lo fa in maniera diversa, cioè l'attività non è diversa per i casi in cui l'evento è ricordato con dettagli piuttosto che quando l'evento sono ricordati senza dettagli, ad indicare che forse il modo in cui l'ippocampo opera in età evolutiva è meno preciso, non ci dà la stessa indicazione di episodicità della memoria. Per ottenere un risultato simile all'adulto dobbiamo aspettare i 14 anni, quindi si tratta di uno sviluppo protratto, vediamo, vi ho mostrato solamente gli otto anni, ma in realtà anche dopo, fino ai 14 anni non vediamo un pattern, un'attività che assomiglia a quell'adulta, vediamo solo qualcosa che comincia ad approssimarsi. Questo sviluppo funzionale, con le neuroimmagini funzionali, è anche accompagnato a uno sviluppo strutturale, ora abbiamo fatto diversi studi che confermano che quello sviluppo funzionale che abbiamo visto avviene parallelamente a uno sviluppo morfologico e questo sviluppo morfologico ha rilevanza comportamentale. Perché questo è importante? Allora abbiamo evidenza che questo ippocampo, questi processi che ci rappresentano, i processi associativi, continuano a svilupparsi e c'è evidenza che in realtà l'ippocampo è connesso in maniera importante di attività di apprendimento che sono invece fondamentali in ambito scolastico. Questo è uno studio che riporta risultati di un'esperienza di tutoraggio individuale nella terza primaria. Qui sono bambini di 8-9 anni che partecipano a questo programma intensivo per otto settimane che tocca varie nozioni in ambito matematico. Si tratta di elementi del senso della quantità, poi di altri principi di aritmetica e dopo questo training gli autori hanno trovato che i bambini che avevano partecipato al programma riuscivano a completare un numero maggiore e di operazioni correttamente e lo facevano più in fretta in confronto a un gruppo di controllo che non aveva partecipato al programma. La cosa interessante è che non tutti i bambini che hanno partecipato al training hanno risposto in maniera uguale a questo tutoraggio, cioè c'erano bambini che hanno dimostrato un miglioramento maggiore di altri. Chi erano questi bambini? Erano i bambini che avevano al momento della partenza del training un maggiore volume ipocampale. Quindi l'ippocampo ci aiuta nelle memorie episodiche, ci aiuta ad affrontare situazioni di apprendimento nuove, che è un po' una caratteristica fondamentale della memoria episodica. Noi ci ricordiamo nuovi eventi che ci accadono ogni giorno. Stessa cosa, ci ricordiamo nuove nozioni, apprendiamo. Ora io non vi dico questa cosa perché penso che nell'ambito scolare sia possibile o ragionevole identificare chi sono i bambini che hanno un ipocampo più grande di quello degli altri. Non vi sto dicendo questo. No, no. Quello che sto dicendo è che abbiamo un indicatore, un indicatore di apprendimento importante e possiamo chiederci quali sono le variabili che influenzano l'integrità di questo ipocampo e quei fattori lì che sono o d'aiuto o che possono alterare questa struttura quelli sì che li possiamo vedere all'interno della scuola. Allora, condizioni che sono legate al miglioramento del funzionamento ipocampale. Esercizio fisico aerobico. Il numero di studi che dimostrano una connessione diretta tra esercizio aerobico e cambiamento morfologico dell'ippocampo e miglioramento di prove di memoria episodica sta diventando sempre più evidente nell'età adulta, durante l'invecchiamento e anche in età evolutiva. Quindi questo è una cosa importante. Quindi benvengano quei programmi che stimolano, sostengono l'esercizio fisico in ambito scolare. Ci sono poi condizioni che possono veramente alterare lo sviluppo ipocampale. Alcune di queste non sono conosciute, penso, in ambito scolare. Ci sono condizioni croniche come il diabete di tipo 1, l'asma, condizioni di povertà, di disagio socio-economico che sono legate, che influenzano per vari motivi l'integrità ipocampale. Una cosa importante qui che voglio veramente sottolineare è che è evidente che gestire una malattia cronica come il diabete di tipo 1 possa essere stressante, che non è facile crescere in una condizione di disagio economico, per esempio. Ma qui quello che voglio sottolineare è che il meccanismo di cui parlo non è quello di cui ho appena parlato, non sono queste situazioni diciamo globali di disagio, di difficoltà, si tratta di un meccanismo neurobiologico che influenza direttamente la struttura ipocampale, la sua funzione e la capacità di apprendere potenzialmente. Quindi cosa a cui prestare attenzione? Qui voglio solamente aprire una parentesi perché non ho tempo di parlare di questi studi. Oltre a queste variabili di cui vi ho detto, abbiamo anche scoperto recentemente che non tutti i tipi di relazioni a livello ipocampale sono appresi nella stessa maniera. Cioè in età evolutiva il bambino apprende più facilmente nozioni di tipo spaziale che di tipo temporale. E quindi nel contesto scolastico quando testiamo, diciamo, ci interessiamo di capire come i bambini capiscono, rappresentano il tempo e lo spazio o come usano nozioni di tempo e spazio per imparare altre nozioni dobbiamo forse capire che lo sviluppo di queste capacità segue traiettorie diverse. per concludere questa prima metà del mio intervento che ci sia sufficiente evidenza empirica per sostenere che di fatto questi processi associativi continuano a svilupparsi nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza, che questi processi associativi hanno implicazioni per l'apprendimento e che dobbiamo essere un po' consapevoli delle variabili che possono sostenere o alterare lo sviluppo di questi processi. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.